Se è moderna e la dimensione fortemente psicologica dentro la quale si colloca la scoperta che Napoleone fa dal tempo della vicenda, la sì che si potrebbe al contrario definire la sua maniera di consentirla e ververla e di narrarla con avvicinamento alla morte dal momento in cui le ancori del Northumberland toccano il fondo della rada di Sant'Elena, primo anello della catena che si prepara a incodare il moderno proiettivo alla sua roccia. Napoleone avverte che le porte che inesorabilmente si chiudono alle sue spalle e corrispondono altri porti che si aprono in una direzione fino a quel momento in attesa e ora diventata tanto presente quanto inerruttabile, dietro lo sguardo impassabile che il uomo la scasi stenta a interpretare. I miei occhi fissavano conscientemente il suo volto e non potevo sorprendergli. È più piccola impressione, eppure quella era ormai la sua prigione perpetua, forse la sua tomba prendono in forma altri capitoli rispetto a quelli di cui prima si parlava a proposito del fortunato breviario di una generazione. Sono i capitoli di un dialogo con la morte. Il mio soggiorno, che ha una morte quotidiana, è il lampo di verità che ho entrato, e che i lettori che scrivono una storia anteriore del memoriale più intensa e segreta probabilmente della sua storia esteriore e se più conosciuta. Direi che il memoriale è soprattutto un ragionamento su potere e forse dire troppo, ma non c'è dubbio che alla prima pagina di queste storie anteriori dell'opera non potrebbero figurare il tema del potere passaggio cruciale, pur comprendi la vicenda vita di Napoleone, se è vero, come scrive, che egli ha cercato la vertu e, non riuscendo la trovarla, ha ottenuto la potenza, ma anche il nodo doloroso intorno al quale Napoleone comprende si è riperloca tutta la sua vita e partire dagli anni della giovenezza segnati dal convento entusiasmo per Rousseau e il suo pensiero. Non basta sotto questo aspetto che egli ricorda di aver bruciato, divenuto ormai imperatore, nel fuoco di un cabinetto invernale e fondi infialito di quella memoria sulla felicità umana che, adolescente e amore del filosofo di Genebra, aveva inviato all'Accademia di Giuliani anche per Napoleone e il congetto dalla giovenezza dai suoi sogni e dai suoi idoli, si rivela. Cosa essi più complessa di un falò fatto in età, al tutto con qualche insegnante scritto dal passato, è il memoriale nella testimonianza eloquente. Ciò che infatti riesale continuamente le sue di Sant'Eleno non è soltanto e sarebbe già molto un generico usia rimpianto per quelle e ripetibili condizioni di felicità dello spirito e del corpo che è la giovenezza. A Gio e il suo amare, i primi amori, l'incontro con Giuseppina, le stupefacenti giornate italiane. Scandi sono ovviamente il calendario dei ricordi, ma quello che più lo inseglie è il sentimento di avere con un patto rivasto in fondo al suo animo impreciso nelle circostanze ed ecchi di poco nelle determinazioni, cambiato inaffrabili felicità cercata del ragazzo con il potere conquistato dal lutto e rivelatosi. Con quella inaffrabili ma in differenza da quella assi più occupo è oppressivo. Il potere è senza dubbio un valore absoluto nell'epoca che saluta il fanissia della sovranità popolare. Napoleone ammonisce seguendo per un verso la lezione dei Machiavelli e anticipando peraltro quella della Rio Politec ottocentesca e non credere troppo ai racconti sulla trasferenza e la condivisione dell'esercizio del potere. E' un duro nocciolo di cui è composto e sta nel fatto che esso esiste solo fino a che si è in grado di imporlo e fino a che Cliviani all'opposto consentito di imporlo. Le coroni nelle sali mani di Dio e nella vittoria delle battaglie spiega le case nelle ore in cui il Northumberland sta lasciandosi dietro le coste europee inaugurando così che il grande tema delle legittimazioni che occupa la larga parte delle riflessioni di Sant'Elena. Sarebbe però spiegato di cercare la ragione di questa ricerca di legittimazioni. Questione è risolta dall'impero napoleonico sul quale mille volte il suo fondatore ritorna appunto a Sant'Elena cercando di spiegare il perché delle sue scelte. Nel seclio di parveno alle forme delle tradizioni e se più modernamente questa ricerca delle legittimazioni riposa sulla conscienza che il mondo nel quale il suo potere si trova ad agire consente volentieri la propria obbedienza alle forme di quelle tradizioni e obbliga in assenza di Dio a rivolgersi al genio della vittoria e alle ossessive coazione. E come direi e vinceri qui infatti Napoleone è costretto oltre ogni limite della sua volontà e delle impossibilità umane. Grazie. Grazie. Grazie.